Aumentano, aumentano ed aumenteranno i positivi al Covid-19 in Serie A, i positivi al coronavirus in Serie A, oltre a Rugani, il difensore della Juve Exempoli. Lo si era scoperto nella serata di mercoledì sera, che il difensore era positivo al Covid-19, aveva avuto 37,5 di febbre, quindi di sua spontanea volontà aveva voluto fare il tampone. Ora sta bene, è asintomatico, come è sintomatico anche Gabbiadini, altro contagiato, il secondo in ordine di tempo, attaccante la Samp, a cui sono aggiunti anche altri giocatori della Samp, come Colley, Trosby, due difensori, e il centrocampista svedese Ekdal, e giocatori della Fiorentina, Vlaovic, primo, Pezzella, il capitano, e Patrick Cutrone, Cutrovic, come lo chiama il grande suma, in un secondo tempo. Oltre anche a un medico, un massaggiatore, uno della Fiorentina, uno della Samp, non so quali siano i loro ruoli esatti nelle rispettive società. Aumentano, purtroppo c'era da aspettarselo, i calciatori non sono immuni al coronavirus, è a questione di tempo per avere i primi positivi al Covid-19 in Serie A, dopo che nelle altre categorie ci sono già stati, l'esempio della Pianese in Serie C, anche del nostro patron, Rullo, a cui auguriamo un grosso in bocca al lupo, le condizioni sono buone, è migliorato, aveva avuto febbre, ora sta meglio. Il nostro patron, Rullo, positivo al Covid-19, anche in altre squadre come nella Reggiana, il difensore 27 anni fa vale, quindi è a questione di tempo, prima o poi il positivo al Covid-19 in Serie A l'avresti trovato, c'era da aspettarselo, è normale, ovviamente i calciatori non rischiano la morte, sappiamo che possono morire le persone anziane, che hanno già dei problemi di salute, che prendono il Covid-19, dei ventenni, trentenni in forma, in gran forma come i calciatori, non sono in pericolo, infatti tutti dopo che hanno avuto una febbre, una leggera febbre, sono asintomatici, stanno tutti bene, quindi tutti tranquilli, però aumenteranno, nei prossimi giorni verranno fuori altri contagiati in Serie A, magari della Fiorentina, della Sam, del Verona, altra squadra che è andata in isolamento, spontaneo, dopo che è stata l'ultima avversaria della Sam, anche l'Inter, che è l'ultima avversaria della Juve, magari ci saranno dei nuovi positivi al coronavirus all'Inter, Verona, non si sa, però aumenteranno, verranno fuori altri nomi, speriamo non tanti, speriamo che questo coronavirus finisca il più presto possibile per ricominciare a giocare, anche l'arbitro Guida, che è stato l'arbitro di Juventus Inter, è in auto isolamento, con anche i guardalini e il quarto uomo della stessa partita, dello stesso derby d'Italia, in un auto isolamento, perché magari possono essersi avvicinati a Rugani, magari una stretta di mano all'inizio della partita, quindi non si sa, perché magari Rugani questo era positivo già prima della partita, e se ne è solo accorto mercoledì quando ha avuto la febbre, perché tu puoi anche averlo, il coronavirus, ma non accorgertene, perché magari non hai la febbre, stai bene, però magari ce l'hai, magari la febbre ti viene 3-4 giorni dopo, e in questi 3-4 giorni sei già entrato in contatto con tante altre persone, facile dirlo adesso, facile dirlo dopo, che si è giocata l'ultima giornata di Serie A, non si doveva giocare, non si doveva giocare, perché magari questi giocatori che erano già positivi sono entrati in contatto con altri, però gente come Tommasi, come Spadaforo, non possono mettere un tweet, e a due ore dall'inizio della partita del mezzogiorno, il lunch match di domenica, scrivendo, ma non si può giocare, non bisogna giocare, tu sei Tommasi, sei Spadaforo, avete dei ruoli importanti nel calcio italiano, non siete dei tifosi che non vengono ascoltati, che magari non vengono ascoltati da nessuno, avete, siete importanti nel calcio italiano, avete il vostro ruolo, e dovete dirlo 2 giorni, 3 giorni prima, decivate, prenderate una decisione, e 2 giorni prima dicevate, no, non si gioca, questo turno di Serie A non si gioca, perché se lo dice un'ora prima, ci sono già delle squadre che sono in viaggio, e già delle squadre che hanno pagato il biglietto, quindi non puoi scombussolare tutto all'ultimo minuto, come avevi fatto, avevi fatto due settimane prima, ma erano delle situazioni diverse, comunque, niente, speriamo che queste situazioni non peggiori, non peggiori, restiamo tutti a casa, restate a casa, tutti, hashtag, io resto a casa, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, e ci vediamo.